Salve a tutti! Ritorniamo nel livello di notte per prendere il cristalto stavolta Con tutte le casse rotte è una cosa un po' impossibilina Visto che ad un certo punto c'è da fare delle panciate a ruoto Non mi sembra molto contento oggi, infatti sono molto contento Oggi mi sembra una buona giornata di fare migliore Fatemi capire una botta di culo dopo l'altra Anche se ho filmato tutto No grazie mille Ok No, non entri Chiamalo Chiamalo E guardate che grande senso Ecco Le ultime parole famose C'è poi mi diamo l'altro servo Poi mi ricordo che c'è una buona Ecco Il bonus non lo faccio perchè non serve a niente Questo non lo faccio Mi stavo farebbe anche tutti i cazzettino eh Questa è un po' di merda Cazzo Mi sento il topo di merda Cazzo Stavo sendo uno speed run ok ma grazie grazie stiamo due minuti per ottenere posso montare vai vai grazie progetto ecco ora a proposito di che fa giaccia ci siamo con 58 per cento 12 gm 23 cristalli alla prossima